Salve, sono Laura Bersellini e il mio webinar parla della mia prima volta con FT e in realtà sono state e sono tante prime volte con FT. Vi consiglio di guardare il webinar e spero, anzi sono certa che vi servirà e vi farà cambiare prospettiva su alcuni aspetti della vostra vita. A me è successo infatti di stravolgere la mia vita, di migliorarla grazie anche a FT e riscoprire dentro di me un tesoro e sono certa appunto che anche voi troverete dentro voi stessi tanti tanti tesori. Quindi adesso vi saluto e guardate i nostri webinar.